E' passato un anno dal mio ultimo attacco a quei deficienti di Gamers Critic. Chissà se si ricordano ancora di me. Io, il più grande hacker a memoria d'uomo. Io, che ho fatto breccia nel database della Pauli e della Fintus. E che in un giorno di settembre buttai su quel loro sito, così, per divertimento. E lo rifarò in diretta per voi, amici. Cosa? Sono! Quei bastanti di Gamers Critic! Annagio, non ti lo fai mai! Non ti faccio finire la roba! Eccomi di nuovo qui. Ho dovuto uccidere tre o quattro gattini per tolaccare la mia ira. Ma ora sono calmo. Sono riuscito a fare soltanto una cosa prima di venire buttato fuori. Modificare una news e spedire a casa mia la copia di un gioco. Vediamo poi. Oh, cazzo. Sleeping dogs. Ma è una copia PlayStation 3. E io non ho una PlayStation 3. Vabbè. Allora facciamo così, amici. La regalerò ad uno di voi. Sì, la regalerò a colui che riuscirà a trovare la news che io ho modificato su quel patetico sito di merda. Sì. Allora sbrigatevi. Cercate la news modificata. Non ti lo dite a me. Allora. Grazie.